Diamo credito alle vostre idee, è partito in questi giorni il bando della Regione Campania per il microcredito a giovani imprenditori e non solo di tutta la Regione Campania, ben 65 milioni di Euro destinati a finanziare iniziative imprenditoriali in essere o iniziative imprenditoriali da far nascere grazie a questi finanziamenti, da 5 a 25 mila Euro da restituire in 5 anni senza alcun costo e senza interessi, per qualsiasi attività di natura commerciale, artigianale o industriale, piccoli crediti per far ripartire l'economia campana, per dare fiducia a chi ha capacità e volontà di fare, 4 linee per spin off di ricerca e quindi privilegiare gli investimenti in attività particolarmente professionalizzanti e destinate a ricercatori e laureati, misure per combattere le nuove marginalità e la nuova povertà, per disoccupati di lungo corso e per categorie più disagiate come immigrati e disabili, una grande attenzione al sociale con risorse destinate al non profit. Dal 19 novembre alle 8 del mattino sarà possibile online presentare le domande di finanziamento, domande semplici che entro un mese riceveranno risposta, il tutto gestito da sviluppo Campania, la finanziaria regionale della regione Campania che si impegna appunto in un mese a valutare le singole proposte di investimento e erogare i finanziamenti in modo rapido, semplice ed efficace. Nessuna esigenza di business plan particolarmente sofisticati, la misura vuole aiutare chi non avendo accesso al credito e avendo difficoltà a rivolgersi alle banche ad avere credito, voglia fare dei piccoli investimenti per le proprie attività. In tutto il territorio della Campania una banca service selezionata con una gara, il Banco di Napoli presso tutti gli sportelli darà informazioni su questa misura e una capillare rete di contatti e rapporti con istituzioni locali pubbliche come i comuni centri per l'impiego o anche private come i sindacati e le associazioni datoriali per presentare questo strumento e per selezionare le energie migliori della nostra regione. Una grande prova di fiducia della regione Campania che abbandona il modello del finanziamento a fondo perduto e presta soldi in un'operazione di grande fiducia e responsabilità per aiutare il settore delle piccole e piccolissime imprese campane a combattere la crisi e a creare sviluppo e occupazione. Sviluppo Campania, la finanziaria regionale della regione Campania sarà supporto di tutti i beneficiari di questa misura e farà assistenza alla compilazione delle domande che potranno essere presentate online anche attraverso la sede della regione e il tutto verificabile sul sito www.sviluppocampania.it oppure da quel sito cercando tutti gli altri contatti di chi potrà supportare gli imprenditori e i microimprenditori nell'accedere a questa misura.